Allora faccio questa cosa che mi sposto, chiudo il mio intervento e chiamo sul palco con grandissima soddisfazione il professor Paolo Pileri che ringrazio particolarmente perché è appena rientrato da un viaggio ed è venuto lo stesso al Politicamp. Il suo intervento si chiama ancora le mani sul suolo, questo ancora dà già un senso di contiguità ma lascio la parola a lui. Buongiorno a tutti, mi hanno offerto una sedia giustamente perché non sono mica giovane però ho detto no ce la faccio anche senza e vai vediamo se ce la farò. Bene sono molto davvero molto contento di essere qua, di essere qua con Possibile e qui che ringrazio per l'invito perché dico subito la dimensione politica è quella corretta per dover affrontare la questione climatica, cioè è inutile, per troppo tempo la questione ambientale, la questione anzi perdonatemi la correzione è opportuna, la questione ecologica, oggi non abbiamo bisogno di ambientalismo, abbiamo bisogno di parlare di ecologia, va bene, è diverso. Ecco è importante che sia dentro e non sia un addendum come ha detto qualcuno prima della proposta politica ma sia la questione su cui poi prende forma l'agenda politica, questa è la differenza. Ora il titolo che è stato ricordato adesso, ancora le mani sul suolo, con quella ancora tra parentesi, non è casuale perché, scusate, ancora le mani sulla città, non è casuale perché? Perché le mani sulla città era quel meraviglioso film di Francesco Rosi, 1963-60 anni fa, che parlava del sacco urbanistico che si faceva indiscriminatamente ovunque, allora era palese, era evidente e scandalizzava. Ma scandalizza oggi? Ragazzi non scandalizza. Adesso e purtroppo, come ho scritto su una rivista, sono lacrime di coccodrillo anche quelle del mondo ambientalista, voglio essere durissimo, davanti all'alluvione della Romagna. ed erano, io non ho sentito il mondo ambientalista indignarsi perché il giorno dopo dell'alluvione delle Marche, qualche mese dopo per essere più preciso, 12 morti anche lì, un disastro che ha cambiato, ha trasfigurato i paesaggi di quella regione, che peraltro è la prima regione per consumo di suolo in aree a pericolosità di frana, ancor più della Liguria, pensate, il 38% delle superfici urbanizzate nelle Marche è urbanizzato dentro ad aree a pericolosità di frana. Ma sulle spiagge di Senigallia, nel settembre, ottobre, 22 settembre, quindi alla fine di settembre del 2022, c'erano i materassi, i letti, gli orsacchiotti e così via, no? Ma a gennaio del 2023, sapete cosa c'era su quelle stesse spiagge? E nessuno ha detto nulla. E qui è il nostro punto di scivolamento, su cui dobbiamo reagire. Sapete cosa c'era? E' stata organizzata una manifestazione per ben due mesi di motocross, sulle stesse spiagge, su cui è morta la gente. E lì l'ambientalismo si è andato da un'altra parte, non ho capito dove, non ho capito perché, ne sono stati articoli di indignazione su questo. Allora, credo che Jesse ha detto una cosa importantissima, che è una delle chiavi della questione, è stare assieme, cooperare. C'è un bellissimo racconto, che io racconto sempre anche ai miei studenti, perché faccio professore all'università, mi occupo di consumo di suolo, dopo vi dirò qualcosa da 25 anni, in tempi non sospetti. C'è una bellissima storia che mi piacerebbe che Jenny, Jenny si chiama, è giusto, non vorrei sbagliare, che tenesse a mente. Perché c'è un'altra donna prima di lei, giovanissima, che negli anni 50, nell'università americane, cominciò a stare in piedi sui tavoli, perché non venivano ascoltate le ragazze e le donne. Ha il suo nome, è Lynn Margulis, una biologa, evoluzionista. A un certo punto lei studiando, segnatevi questa parola, studiando, studiando a un certo punto ha detto, ma no, non può essere che l'evoluzione è come dire la storia dei vincitori sui vinti, Darwin, va bene? Cioè la selezione del migliore, non può essere questa cosa, perché io ho studiato che non è così e ho capito che ci sono due cellule debole, due batteri deboli, si fondono, lavorano insieme e diventano più forti del batterio più forte. Ed è questo che ha cambiato la teoria dell'evoluzione, Lynn Margulis, straordinario. Allora questa è una lezione bellissima, perché fa capire che la cooperazione tra quelli che noi pensiamo essere due questioni deboli, in realtà può diventare la questione forte, va bene? Al pari di quello che noi immaginiamo. Questa è una cosa che dobbiamo metterci in testa e dobbiamo andare a recuperare, credo, queste storie di saperi ecologici. E' come mi piace dire saperi ecologici, perché questa è la differenza. Bruno Latour, in un libro molto bello, l'ultimo suo libro, prima di morire, ha scritto una cosa molto bella, ha detto, allora vogliamo capire che siamo in un'altra materia, come gli antropologi direbbero, siamo in un'altra cosmologia. Non è un'emergenza il cambiamento climatico, come è stato detto bene prima, ma è il nuovo abito che purtroppo abbiamo generato noi e su cui dobbiamo lavorare, ma lavorare come? E qui sono andato a cercare un po' di cose per me sempre fondamentali di un maestro che è Norberto Bobbio, antifascista, antifascista, partigiano, senatore a vita, dimenticato. Perché noi dimentichiamo un sacco di cose straordinarie che ci sono passate tra le mani. Lui a un certo punto dice che ci sono tre questioni fondamentali per l'impegno politico. La prima è il fatto che tutti noi facciamo politica, ma non la facciamo per la politica. la facciamo, la dobbiamo fare con il nostro mestiere, con i nostri mestieri, chi fa il panettiere, chi fa il professore universitario, chi fa lo scrittore, chi fa il giardiniere, ognuno deve far politica, deve metterselo in testa, non deve essere spettatore di qualcosa, ma deve essere persona sempre attiva. E uno dei modi per essere attivi è domandare, chiedere, alzare la mano, scusa, ma cosa stai dicendo quando non si capisce? Parlo dell'urbanistica, del consumo di suolo, ci arriverò. Il secondo punto, però, è uno dei punti che più mi ha bucato il cervello sempre da parte di Norberto Bobbi. E sapete cos'è? Lui dice una cosa meravigliosa, provo a dire la memoria. Se volete far politica, occorre superare la cultura dilettantistica con cui purtroppo, molto spesso, si fa politica. Formatevi tra di voi, studiate, perché diversamente vi disperderete. E guardate queste parole, quando Jenny parlava e diceva che non riescono a cementarsi, no? E nella mia testa ripartivano queste parole di Bobbio, no? Cultura dilettantistica che sui cambiamenti climatici è gigantesca, ragazzi. Oggi chi fa politica non sa cosa è il suolo. E purtroppo anche in molte associazioni ambientaliste non sanno cosa è il suolo. E molto spesso, anche in questa regione, gli ambientalisti, mi spiace dirlo, mi spiace molto, intendiamoci, però lo dico non per criticare, ma per capire che bisogna cambiare passo alla Bruno Latour. Bisogna capire come coagulare queste cose e come farle diventare nuova energia. Perché qui, in questa regione, dove c'è stata una pessima legge sul consumo di suolo, una pessima legge sul consumo di suolo, quando pochi di noi lo dicevano nel 2018, sono stati cacciati via. E l'associazione ambientalista ha detto poche cose. Perché? Perché quella parte politica era, insomma, prossima a quel mondo ambientalista e quindi, vabbè, diamo fiducia. Ma era evidente che era una legge assurda. Era evidente che era una legge assurda. E solo oggi, dopo i fatti di Romagna, delle alluvioni, oggi si sfilano l'associazione ambientalista dal patto clima. E vabbè. Oggi non abbiamo bisogno, io credo, solo della protezione civile. Troppo facile, anzi, ci droga, eh? Perché la protezione civile, la narrazione che c'è sulla protezione civile, è una narrazione che, se ci pensate, come direbbe Anza Sirrobert, che ha scritto un bellissimo libro, che si chiama La strategia dell'emozione, è una filosofa francese, perché molto spesso poi ci fissiamo su quelle immagini dei ragazzi, dei giovani, con le pale, che è bellissimo, ma chi dice che non è bellissimo? E però perdiamo di vista la possibilità di fare una riflessione razionale su quello che è successo e perché è successo. E qui slittiamo, e qui si slitta, e qui bisogna avere sangue freddo e capire dove riparare la questione. E, beh, pensate che la sola città di Ravenna, nello scorso anno, e vi do un po' di dati sul consumo di suolo, che poi era già quello che Francesco Rosi già lamentava nel 63, c'è una bellissima immagine nei primi tre minuti del film, no? Quando a un certo punto la terra viene chiamata squallida estensione di terreno. Che proprio, ci sono due parole sbagliate, squallida estensione. Squallida non è, perché il terreno dovete pensarlo non come quella roba su cui siete seduti voi adesso, ovvero una superficie, ma uno spessore di vita. Il 30% della biodiversità sta nei primi 30 centimetri di terra, ma qual è il politico che lo sa? Qual è il sindaco che lo sa? Qual è il sindaco che ci dice ogni giorno questa cosa? Ma io non ne ho trovati, ne giro tantissimi. Quindi non è per criticare, perché noi non ne veniamo fuori, ma è per capire che ci mancano dei fondamenti di studio per capire come costruire la prossima proposta ecologica che sta dentro la parentesi politica. Questo è importantissimo, per quello che la frase di Di Bobbio, secondo me, oggi è più che mai attuale. Torniamo ai fatti del consumo di suolo in Emilia. Scusate se vado di qua e di là. Ravenna è la seconda città dopo Roma per consumo di suolo l'anno scorso. 64 ettari in un solo anno. Roma 95. L'Emilia Romagna ha consumato, ha cementificato aree in zone ad altissima pericolosità idraulica, dove vuol dire che è certo che verranno seppellite dall'acqua se arriva una pioggia forte. E oggi arriverà sempre, perché ricordatevi Bruno Latour, siamo in un'altra materia, siamo in un'altra cosmologia. 78 ettari in un solo anno. 78 ettari consumati dentro le aree ad alta pericolosità. E nessuno se ne è lamentato, eh? Non ci sono state interrogazioni consigliari regionali prima di queste cose. No, 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 no. Eppure i dati sono pubblicati. Ispra. Facciamo una fatica bestiale a pubblicarli. E chissà se verranno ancora pubblicati nei prossimi anni. 500 ettari sono stati cementificati in questa regione solo l'anno scorso, nelle aree a media pericolosità idraulica. 500 ettari. Sapete quanto ha consumato in tutto l'Emilia Romagna? 650 ettari. Terza regione in Italia per consumo di suolo, ma va fiera di una legge contro il consumo di suolo che non funziona. Evidentemente, diciamo da tempo, in pochi che non funziona. Non è più l'ambientalismo dei ricorsi. E questo lo dico anche ai verdi, che si vantano molto spesso di questa cosa. Non funziona, perché anche tra i verdi c'è un sacco di gente che non sa cos'è la terra. Non sa cos'è la biodiversità. E oggi è quella l'emergenza. E torniamo a Bobbio. Non possiamo andare avanti con una politica dilettantistica sulle questioni climatiche. E quindi vuol dire che c'è bisogno, ahimè, di fare le notti a studiare. Mi spiace dirlo, ma è così. Ma questo, guardate, lo scrive Latour nell'ultimo libro. E i giovani da questo punto sono straordinari, perché stanno fottendo i vecchi dell'associazione dei partiti che slitterano, non capiscono, non sanno cos'è, ma, mi, mo, ma. Io ho sentito l'ex ministro delle infrastrutture l'anno scorso, quando abbiamo presentato il rapporto nazionale sul consumo di suolo, dire, ed Enrico Giovannini, dire che ci sono dei consumi di suolo buoni e dei consumi di suolo cattivi. No, ci sono solamente dei consumi di suolo cattivi. Fine. Se lo dici, non hai capito cos'è la terra. Non hai capito che il 95% del nostro cibo arriva da lì, il 99% delle nostre calorie arrivano da lì. Eppure, davanti a questa affermazione, io non ho sentito il giorno dopo dei comunicati stampa dei partiti verdi o degli ecodem, non lo so di chi, dire, ma cosa state dicendo? Ma siamo matti? Non ho sentito i comunicati stampa delle associazioni ambientaliste dire, ma esistono dei consumi di suolo buoni, ma ci rendiamo conto un ministro tecnico cosa sta dicendo? No, solamente io e Mercalli, Mercalli più di me, incazzati neri. Quindi vuol dire che bisogna, capite, non so se mi sto spiegando, di cosa bisogna rimuovere. Ed esattamente la domanda che mi ha molto colpito in questi giorni che ero in viaggio e leggevo il libro di Latour, esattamente questo. Anche in Francia c'è questo movimento che già si dice esiste ma è scompaginato ed è rappresentato ancora da persone che non hanno capito cos'è il clima rispetto al meteo. Però nel frattempo la base è scompaginata, cioè non riesce a trovare qualcosa che li coaguli. E una delle questioni che da trovare sono esattamente gli argomenti, non sono le convenienze. Qualcuno mi dice ah ma il non consumare suolo deve diventare conveniente. No, non deve diventare conveniente perché allora significa riprendere lo stesso frame, lo stesso cornice economicista. No, certe cose dobbiamo fare perché noi oggi dobbiamo occuparci della terra di cui viviamo, non in cui viviamo. La differenza è gigantesca. Di cui viviamo, non in cui viviamo. Questo è un passaggio fondamentale. Ecco, su questo bisogna lavorare. E da questo punto di vista bisogna molto prevenire. Cioè i dati sul consumo di suolo, ripeto, sono lì, sono pubblicati. Non si possono recuperare solamente quando succede qualcosa, ma bisogna recuperarli prima. Cioè noi dovremmo sapere di tutto in memoria, dovremmo sapere che durante Covid il tasso di crescita del consumo di suolo in Italia è cresciuto del 22%, cento volte di più del pre-Covid, cento volte di più, ma solamente questo. Io ci avrei fatto una campagna politica, ma non è c'è stato. L'avete sentito? Una prima volta che lo sentite questa cosa. 6.300 ettari in un solo anno, 6.300 ettari in un solo anno. Mentre Ravenna va a fondo, sul sito della Confindustria di Piacenza c'è pubblicizzato 1.5 milioni di metri quadri pronti per essere cementificati per l'ennesima logistica. E tra l'altro le parole sono incredibili di quel sito. Investi in Piacenza. perché proprio si parla di Greenfield pronti per essere urbanizzati. Greenfield, capite? Campi. E non ci si vergogna di dirlo. Ecco, allora anche su questo tema io credo che bisogna lavorare sul fatto che ci si deve indignare. Cioè, Greenfield tu non lo usi. Perché, capito, è la lotta delle parole, è la lotta degli argomenti. Regione Piemonte l'anno scorso, esattamente un anno fa, ha fatto una legge sul consumo di suolo, in cui ha coniato un nuovo termine, decostruzione. E dice che bisogna decostruire. Ma poi vai a leggere cos'è, e uno dice cos'è la decostruzione? Ok, ma è bello, ci piace. Piace anche molto l'Emilia Romagna, piace anche molto la Lombardia, è depavimentare. Ma anche questo è un concetto distorto, vuol dire che chi l'ha inventato e chi non si è opposto non ha chiaro cos'è l'ecologia. perché se tu prendi il parcheggio dell'Ichea e togli via l'asfalto, lì sotto c'è merda, non c'è niente di vita, non c'è nulla di vita. È biologicamente una roba morta quella roba lì, che non vale quanto è uguale a prendere un prato permanente della via Emilia e coprirlo per farci un parcheggio. Non è la stessa cosa, eppure sulle leggi c'è scritto così, anche di quella dell'Emilia Romagna. Il fatto di non essersi opposti, secondo me, è proprio perché manca la capacità di vedere il problema. Ecco, quindi bisogna molto lavorare. Quindi io spero in tantissime sessioni davvero di studio, grandissimi camp dove i giovani arrivano a fare delle domande motivate e conoscendo la questione. Questo è davvero fondamentale. Cosa posso dire ancora sui consumi di suolo? Credo che della dissociazione abbiamo già detto adesso sono preso da questo albero che mi ha molto colpito perché non ho mai visto una roba del genere che è un po', secondo me, è l'immagine delle cose che ho sentito dire prima e di quelle che sto provando un po' pasticciate a dire adesso perché ho dormito solamente tre ore. Non ho mai visto questa cosa. Credo che possa esattare un po' l'immagine di quello che chiedeva Jenny. Vedete, ci sono tre alberi. è la prima volta che vedo che c'è un albero quello più alla mia destra alla vostra sinistra che sorregge e si è incistato nell'altro che diversamente probabilmente sarebbe caduto non avrebbe retto il peso della chioma. Guardate, è la prima volta che vedo una roba del genere perché non ho mai visto che un ramo si incista nel tronco di un altro per sorreggerlo. Ecco, credo che questa sia una bellissima immagine che non a caso sarà piombata in questo chiosso dove state ragionando, dove stiamo ragionando. Ecco, qui bisogna sorreggersi e bisogna capire, dobbiamo riconoscere una pianta dall'altra, non possiamo più chiamare alberi. C'è una bellissima poesia di Antonella Nedda che dice basta essere generici, è la precisione che ci salverà, non alberi ma lecci, platani, carpini. Anche questo è molto importante nella politica, nel fare politica ambientalista, va bene? Saper distinguere le cose puntualmente, fantasticamente, questo è molto importante, ok? E i numeri sono molto importanti perché quando io ho scritto sui giornali che l'Emilia Romagna stava piangendo, beh, dico ok, ma avete consumato l'80, il 90% del vostro consumo di suolo è in area alluvionale, di cosa piangete? Ma di cosa piangete? Allora lì va in pappa la politica, ma anche questo non dovevo farlo io o solo io, ma doveva farla esattamente l'opposizione o i partiti ambientalisti che non l'han fatto, perché ancora non siamo abituati a usare gli argomenti e i numeri. Queste sono due cose importantissime invece che inchiodano il pressapochismo con cui vengono fatte alcune politiche scarsissime ambientaliste, va bene? E con cui verranno ancora fatte ancora di più perché ovviamente questo governo non gliene può fregare di meno. Boh, non so, io fermerei qua. Ricordo solamente un altro caso molto bello che è l'unico caso che io conosco lungo la via Emilia di sindaco che si è opposto alla logistica. Guardate che la logistica sta piegando in due la Lombardia, sta piegando in due il Piemonte, sta piegando in due l'Emilia, sta piegando in due Lazio nell'entroterra di Roma, io riceverò 5-6 mail al giorno di richieste d'aiuto, non so più che cosa fare e soprattutto vedo che la politica slitta perché non riesce a opporre all'argomento lavoro che poi è un pessimo lavoro, all'argomento lavoro non riesce a opporre argomenti di tipo ecologico perché non li ha, perché ne ha pochi. Però la logistica sta facendo fuori tutti i campi agricoli e così accadrà anche per il solare intendiamoci. Questa regione sta uscendo con dei criteri assurdi sul solare a terra e il ministero nel precedente governo quello tecnico è uscito con dei criteri sul solare a terra chiamandolo agrivoltaico ma che non è agrivoltaico ma è i pannelli solari al posto dei campi e anche su questo c'è un silenzio bestiale. allora bisogna capire ma abbiamo se c'è abbastanza superficie agricola per dare da mangiare a tutti sì o no? Se no perché dobbiamo mettere in competizione due sostenibilità l'energia rinnovabile con il cibo? Non c'è una possibilità migliore certo che esiste una possibilità migliore abbiamo 3.000 tetti ma non sappiamo quanti sono perché anche un'altra questione che abbiamo bisogno per fare politiche ambientali è conoscere le cose io non so sapete ci lavoro in questo campo io in questo momento non c'è un sito web non c'è una ricerca in Italia che mi sa dire quante aree di smesse ci sono non ce n'è una non ce n'è una e abbiamo chiesto abbiamo chiesto mille volte alle compagini politiche di finanziare inventari di questo tipo zero zero non sappiamo quante sono i dati che abbiamo sono incerti approssimati i comuni non rispondono ma perché non ce la fanno le regioni non rispondono perché non vogliono non vogliono fare di conto quindi capite che c'è veramente tutto scassato e quindi è molto difficile anche costruire quindi lo dico anche ai giovani che devono non solamente e io li condivido quando vanno in giro a verniciare voglio dirlo con grandissima lo scritto non ho proprio paura a ripeterlo però devono anche chiedere che come dire le conoscenze siano a disposizione di tutto tutti siano ben fatte va bene e su quelle conoscenze bisogna prendere decisioni questo è importante perché se no ci fregheranno sempre cioè è chiaro questa cosa qua ultima cosa ultimissima troppi comuni abbiamo troppi comuni se vogliamo se vogliamo fare delle politiche sulla biodiversità che a proposito di pannella anche se andate a vedere la strategia europea per la biodiversità che entro 2030 dovremmo avere 30% delle aree tutelate in Italia anche marine pensate che a livello marino abbiamo il 0,3% 0,3% e dobbiamo arrivare al 2030 quindi dopo domani al 30% impossibile pensate che sulla strategia europea per la biodiversità si parla di necessari cambiamenti radicali necessari cambiamenti radicali e certo il governo e certo la commissione europea non è progressista eppure chiede questa cosa e noi qui non la chiediamo perché da biodiversità c'è sfuggita di mano non capiamo cosa sia perché purtroppo il nostro mondo non arriva da un percorso formativo nelle nostre scuole ecologico va bene quindi tornando al suolo noi non sappiamo che il 30% della biodiversità sta nei primi 30 cm perché nessuno ce l'ha insegnato semplicemente molto banalmente e quindi da questo punto di vista di nuovo slittiamo volevo dire un'ultima cosa ma cos'è che stavo dicendo prima di fare di aprire l'ennesima parentesi ah ecco questo è importante mi spiace dirlo però io che faccio un po' di conti un po' di di lavoro scientifico su questo da alcuni anni sono stato molto accusato di questo persino in Parlamento ho dimostrato dati alla mano che i comuni piccoli sotto i 5.000 abitanti che sono il 70% dei comuni italiani hanno un consumo di suolo pro capite a volte di 10 volte rispetto ai grandi medi comuni quindi c'è justo un problema è un problema che si chiama oneri di urbanizzazione che incassano perché non hanno i soldi quindi arrivano a consumare l'imo che incassano quindi c'è come dire un groviglio di contraddizioni che tiene in piedi questo meccanismo anche dei piccoli medi comuni che guardate che è quasi l'unico caso europeo ma su questo la politica non ne vuole sapere vuole tenere tutti i comuni perché è un meccanismo di potere perché è un meccanismo ma non ha funzione siamo in un'altra materia lo ripeto quindi vogliamo affrontare la biodiversità avendo in una valle 18 comuni cioè nell'appennino bolognese emiliano è andato giù tutto e vogliamo affrontare questo immaginando di dare dei soldi a ogni comune per ricostruire ma che ricostruire bisogna decostruire non ricostruire va bene ma come possiamo pensare di farlo con anche i migliori sindaci quando sono tutti divisi uno con l'altro ognuno porta a casa il suo risultato non ha senso è un unico appennino che ha bisogno di essere aiutato secondo uno sguardo ampio e anche su questo bisogna lavorare bisogna togliere alcune competenze ai comuni l'esatto contrario di quello che ha fatto Renzi disastrosamente e rimetterle dentro alcuni meccanismi che non possono essere solo politici ma devono essere anche tecnici ma tecnici preparati e dal punto di vista ecologico quindi altro lavoro da fare e se no non se ne viene fuori non possiamo avere in valtellina guardate le Olimpiadi le Olimpiadi sono un altro disastro perché? perché chiaramente quella macchina enorme piena di soldi 4 miliardi di euro con tanti pronti da spendere va davanti a dei sindacchetti che con tutta la buona volontà cosa volete che dicano? cosa volete che facciano? non riescono quindi questo meccanismo completamente frammentato è l'esattamente l'esatta preoccupazione ma non c'è dal punto di vista politica di quello che è genita dal punto di vista della mobilitazione giovanile anche qui abbiamo troppi comuni 8 mila comuni ma che ce ne facciamo con competenze ambientali benissimo che rimangano con le competenze municipali quindi l'asilo quelle di prossimità l'assistenza alle persone più bisognose è chiaro che loro lì vedono le cose ma come vedete sulla questione climatica non è la strada giusta secondo me quindi anche questa è una cosa dolorosissima ma da mettere in agenda possono i comuni così tanti occuparsi di questioni climatiche? no basta grazie scusate la confusione bravi grazie 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 grazie